Siamo qui con Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolano, ma al quale chiediamo come andrà questo 2020 per i consulenti finanziari? Devo dire che veniamo da un 2019 che ha visto passare la quota di mercato dei consulenti finanziari da un 12% a un 15%, quindi uno sviluppo veramente importante. Ma io credo che quello che abbiamo visto nel 2019 sia solo minimamente in parte indicativo di un percorso di lungo termine che verrà veramente la professione del consulente finanziario proprio in un percorso esaltante. E dico questo molto semplicemente perché ritengo che in un mondo nel quale il nostro interlocutore si trova a dover confrontarsi con delle sfide sociodemografiche importanti, il consulente riveste proprio il ruolo di interlocutore principe perché mette insieme il tempo di relazione, un approccio che è quello corretto di cercare di portare il risparmiatore, di accompagnarlo nel percorso della realizzazione dei suoi progetti di vita e mette insieme quella competenza specifica ovviamente che altri interlocutori non hanno. Quindi al di là del 2020 un percorso di grandissimo straordinario sviluppo. Ottimo. E invece per quanto riguarda i PIR? Ecco devo dire che i piani individuali di risparmio che hanno visto un momento che io immagino dovremmo definire di vera e propria rinascita rappresentano secondo me uno strumento straordinario a disposizione dei risparmiatori, prima di tutto a disposizione dei professionisti e a disposizione ovviamente dell'impresa italiana. Se li andiamo a fotografare dal punto di vista del risparmiatore, che è un punto di vista fondamentale perché sono gli utilizzatori dello strumento, io dico che non esiste uno strumento che anche normativamente porti chi lo utilizza a rispettare le tre regole auree del buon investimento perché i piani individuali di risparmio hanno un universo investibile che rappresenta proprio una sintesi straordinaria di diversificazione, quindi di diversificazione nell'economia reale e nell'economia reale mondiale. E quindi questo è il primo tassello importante. Poi invitano ad una modalità d'accesso che è quella dell'intervenire nei mercati diversificando anche il momento di ingresso e questa è la seconda virtù di questo strumento. Infine, proprio strutturalmente, portano il risparmiatore ad un tempo di permanenza più congruo rispetto ai mercati di riferimento, quindi a lungo periodo. Se guardiamo questo, possiamo dire veramente con cognizione di causa che chi sottoscriverà un pier avrà sicuramente soddisfazione. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.